Ciao a tutti gli amici delle case naturali, oggi vi faccio vedere l'edificio che devo restratturare. Eccolo lì, alle mie spalle si tratta di una contrada del 1800, mi trovo in Lessigna, è una costruzione realizzata interamente in pietra, qua lì, sono quattro unità suddivise andremo a ristrutturare la copertura con il sisma bonus, le fondazioni sempre con il sisma bonus e poi andremo ad isolare l'involucro di questa casa, fondazioni e copertura e sempre con cosa? con sistemi naturali e compatibili con questa costruzione, perciò legno, calce e argilla, come appunto avevano già fatto in precedenza che ha costruito questa contrada. Una particolarità, questo è il fienile dove qui veniva raccolto il fieno, questa era la casa di proprietà di chi abitava e questo invece è l'ingresso alla contrada, guardate che meraviglia. Ho fatto il panorama intanto, siamo completamente immersi nel verde, questo è quello che si vede la mattina quando ci si sveglia da questa costruzione e questa è la facciata, ecco qui, dell'unità, la casa, piano terra e qui abbiamo la stalla, eccola qui, la stalla originale dove qui all'interno c'erano le vacche e qui sopra il fienile che andremo a ristrutturare. Ecco qui questo edificio. Grazie.